Malattia rara è un termine che si riferisce ad una condizione media che colpisce un numero molto limitato di persone, ha un'incidenza che si considera malato raro, un malato che appartiene ad 1 su 2 mila in Europa, in America invece a 7,5 su 10 mila, in Giappone inferiore a 4 su 10 mila, ma in generale si classifica quindi come malattia rara quella che ha un'incidenza inferiore a 5 persone su 10 mila. Le malattie rare sono tantissime, molte di queste sono sconosciute, nel senso non hanno un nome, si sa però che c'è un'origine genetica o comunque c'è un'origine a quelle che sono tutte le sintomatologie che la persona esprime e che vanno, queste malattie rare si stimano siano intorno tra i 6 mila e le 8 mila malattie rare con aggiunte descrittive, quindi descrizioni nosografiche di 250-280 condizioni ogni anno. Queste malattie vengono chiamate anche malattie orfane a causa o in collegamento a quello che è una questione legata alla farmacologia, cioè molte di queste malattie non hanno una terapia e quando hanno possibilità anche di cura, però sono talmente rare che le cause farmaceutiche non investono nel settore e quindi orfane per questo motivo. Quando possono essere diagnosticate queste malattie? Allora molte malattie grazie allo screen neonatale esteso sono diagnosticate in epoca prenatale, ma ancora rispetto all'infinità di malattie rare che abbiamo davanti a noi sono veramente una minima parte. Comunque per esempio in prenatale possiamo diagnosticare disturbi metabolici, poi ci sono altre malattie che vengono diagnosticate alla nascita, per esempio la sindrome di Nunan e la sindrome di Williams sono alcune di queste. e abbiamo invece altre ancora che possono essere diagnosticate durante l'infanzia alla sindrome diretto per esempio e altre ancora per esempio in età adulta, nella sindrome della delezione del promosoma 22, nella variante senza cardiopatia si può arrivare fino all'età adulta senza aver mai ricevuto prima una diagnosi. Allora ma vediamo un attimo quello che è invece il mondo del lavoro relativamente alle malattie rare. Diciamo che le leggi sia europee che italiane garantiscono il diritto di non discriminazione sul lavoro per tutti i cittadini, incluso quindi le disabilità e promuovono quindi varie opportunità e vita professionale soddisfacente. È stata creata, questa è una legge, la 68 del 1999 che promuove l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e garantisce quindi trattamenti sia contributivi che retributivi che ovviamente di trattamento uguali a tutti gli altri lavoratori. Le mansioni ovviamente devono essere adeguate al tipo di persona, alla tipo di disabilità che la persona ha. Questa legge è stata promulgata proprio per valorizzare le competenze lavorative delle persone con disabilità e protegge le persone dalle categorie protette dal lavoro da quello che può essere un lavoro discriminatorio stabilendo diritti nei confronti anche del datore di lavoro. Introduce un concetto che è quello del collocamento mirato che consiste in strumenti e supporti per valutare le capacità lavorative e inserire le persone in ambienti adatti attraverso sostegno, analisi del lavoro e risoluzione di problemi connessi. Questo è un concetto molto interessante perché poi rispetto a questo collocamento mirato vediamo che nella realtà quotidiana di molti lavoratori come Antia Rara e facenti parte delle categorie protette questa sorta di accompagnamento, di inserimento, di sostegno e via di seguito spesso è altamente trascurata. Le aziende, sia pubbliche che private, devono assumere quindi persone, traendole dalle categorie protette e possono beneficiare di incentivi sia economici che gravi fiscali. Le persone delle categorie protette sono quelle ovviamente che presentano uno stato invalidante, fisico, psichico, intellettivo e sensoriale riconosciuto da una commissione medica dedicata. In particolare fanno parte di questa voce delle categorie protette individui con disabilità con invalidità civile superiore al 45%, individui con invalidità del lavoro superiore al 33%, persone non vedenti e non utenti, individui con invalidità di guerra, invalidità civile, di guerra, invalidità per ragioni di servizio. Ma quali sono i malattori che invece sono impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa? Abbiamo ovviamente quelli che hanno un'invalidità compresa tra il 74% e il 99% compreso, che hanno poi la possibilità di richiedere un assegno di invalidità o assegno mensile di assistenza e coloro che hanno un'invalidità totale del 100%, con possibilità di chiedere la pensione di invalidità. Anche qui penso che dovremmo aprire una discussione di quelle esorbitanti, enormi, perché d'altra parte questi indennizi, questi assegni di invalidità, per non parlare poi di tutto ciò che in un certo senso è la rinuncia o comunque la devozione del caregiver che si occupa del malato raro, del disabile e via di seguito, sono completamente fuori da quello che è la possibilità, diciamo lo standard di vita normale di una persona. Ovviamente ci sono anche altre persone, altri requisiti per accedere alle categorie protette e di nuovo parliamo anche della questione del servizio di collocamento mirato e anche al fatto che le persone con disabilità possono essere registrate nei centri di impiego provinciale per accedere a quello che è appunto il collocamento mirato. Ci sono una serie di requisiti che le persone devono avere e una serie anche di documenti da presentare. La legge 68-99 impone obblighi di assunzione per le aziende, sia pubbliche che private, che devono garantire un determinato numero di persone con disabilità o appartenenti alle categorie equiparate. Questi requisiti variano a seconda della dimensione dell'azienda. Abbiamo che aziende con più di 50 dipendenti devono assumere il 7% di lavoratori disabili, aziende tra i 36 e i 50 dipendenti almeno due lavoratori disabili, aziende tra i 15 e i 35 dipendenti almeno un lavoratore disabile. Una volta assunto il dipendente appartenente alle categorie protette è regolato dalle stesse norme che sono applicate agli altri lavoratori. Ci sono poi delle sanzioni per chi non assume, cioè nel caso di bancato adempimento degli obblighi di assunzione, le aziende, sia pubbliche che private, saranno sottoposte ad una serie di procedure di sanzioni, sia per ritardi che per mancata assunzione. Abbiamo delle cifre che a volte sono veramente interessanti, per esempio sappiamo che la sanzione per la mancata assunzione equivale a 153,20 euro al giorno che l'azienda deve versare allo Stato, all'Inps. Quello che mi preme dire, prima di passare la parola a Giuseppe, è che in ogni caso essere malattie rari non significa necessariamente essere inabili lavorativamente, che esistono veramente tante condizioni di malattia rara, che preservano tantissime funzioni, sia cognitive, intellettive, esecutive, emotive, relazionali e via di seguito. Persone che nel corso degli anni ho conosciuto, che ho frequentato, veramente si può dire anche in tanti posti nel mondo, durante i tantissimi congressi e riunioni dove si parla di malattie rare, dove sono presenti tantissimi rappresentanti delle malattie rare, che sono persone talentuose, creative, intelligentissime, che hanno malattie rare a volte invisibili. Quello che possiamo dire è che in realtà gran parte delle persone con malattia rara hanno una caratteristica che forse è uno scatto in più, cioè quello di essere tenaci, focalizzate, determinate, forse anche più dei cosiddetti normali. Qual è l'aspetto che io devo trattare? L'aspetto che io devo trattare è quello dell'azienda privata. L'azienda privata, le aziende private che devono assumere, abbiamo visto le quote, se sono oltre i 15 dipendenti, un dipendente fino a 35, da 36 ai 70, due dipendenti e poi il 7%. Bene, abbiamo visto che devono assumere e se non assumono devono pagare delle sanzioni. Bene, le aziende private hanno come finalità quella della produttività, quindi non assumono la categoria protetta, il malato raro, in quanto categoria protetta o in quanto malato raro, ma lo assumono e la assumono la risorsa o la malata o il malato in quanto risorsa, cioè devono essere produttive. Ora, che cosa accade? Che la gran parte delle aziende, la capacità di selezionare talenti all'interno di questa grande categoria, che è quella della categoria protetta, non ha spesso le competenze adeguate per poter individuare talenti tra queste persone e anche a livello di reclutamento non si impegna più di tanto. Si partecipa a qualche, vengono chiamati inclusion day o diversity day, cioè delle fiere del lavoro dedicate alle categorie protette, oppure si partecipa inserendo appunto i job post, queste posizioni aperte all'interno del portale. Ecco, però non si fa più di tanto poi e questo come viene dimostrato? Viene dimostrato anche dal fatto che un grandissimo numero di aziende paga la sanzione, preferisce pagare la sanzione più che assumere la categoria protetta. Questo perché? Perché assumere la categoria protetta vuol dire poi anche avere un determinato tipo di impegno, non è solamente l'assunzione. Poi bisogna gestire all'interno dell'azienda la categoria protetta, cioè il malato, e bisogna anche inserirlo, cioè quello che viene chiamato in termini tecnico, poi si usa molto l'inglese in ambito lavorativo, quindi ci devono passare l'onboarding che sarebbe l'inserimento, è utilizzato da quasi tutte le aziende in modo identico a quello della persona normodotata. E spesso invece, anche se la malattia rara o la categoria disabilità che riduce in categoria protetta non rende inabile la persona, però ovviamente un impatto psicologico e delle volte anche fisico c'è e bisogna gestirlo. Ora, perché io mi sono sentito chiamato in causa? Perché le aziende da molti anni vanno dietro a una comunicazione legata alla moda del momento. E noi abbiamo avuto il momento dell'innovation della corporate social responsibility e adesso c'è la vulgata del diversity e dell'inclusione. Quindi tutte le aziende fanno questo grande parlare di inclusione e di inclusione della diversità. Però, se voi fate un giro su LinkedIn, oggi nessuna azienda ha scritto nulla sulla giornata mondiale delle malattie rare. Perché? Perché si parla di inclusione non sotto il punto di vista dell'inclusione della categoria protetta, ma principalmente dell'inclusione del gender gap, cioè delle donne o delle persone che hanno una differente sessualità. E questo mi lascia un po' perplesso perché vantarsi del fatto che si assumono e si considerano lavoratrici a tutti gli effetti. Le donne, vantarsi di questo mi sembra abbastanza sconvolgente. È scritto nell'articolo 35 della Costituzione che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in ambito lavorativo. Quindi fare tutte queste attività di comunicazione, parlando di inclusione e di diversity, per poi andare a vedere che questa inclusione di diversity è esclusivamente relativo alle donne e non alle categorie protette, mi ha lasciato un po' di amare in bocca. Quindi è vero che le aziende devono assumere persone che siano comunque delle risorse. È vero che possono pagare la sanzione, però se pagano la sanzione poi non possono vantarsi di essere inclusive e di fare attenzione alla diversità. C'è un libro molto interessante di un disabile, si chiama Marco Campanini, e il libro si chiama Disabilità e lavoro, è stato pubblicato nel 2022, e lui, che è un avvocato, che ha problemi di inclusione all'interno del mondo del lavoro, ha fatto uno studio sulla regione Emilia-Romagna e in questo studio ha riportato anche quello che è la lista che è stata redatta nel 2020, perché quella è quella che è riuscito ad ottenere, di tutte quante le aziende che hanno pagato la sanzione. E hanno pagato tantissimi soldi di sanzione, cioè superiamo i 400 mila euro annui pur di non assumere categorie protette. Quindi se voi acquistate quel libro vedrete che sono 650 aziende solamente in Emilia-Romagna. Quindi comprendete qual è la situazione del mondo privato rispetto alle categorie protette. Ora, che cosa accade? Accade che dobbiamo renderci conto di quella che è la realtà lavorativa, cioè chi è che si deve far conoscere. Le aziende che hanno un problema enorme di carenza, oggi, di occupazione, cioè loro, le aziende italiane, le aziende private italiane, hanno una carenza di più di 300 mila addetti o dipendenti. Abbiamo un alto numero di disoccupati, però le aziende non riescono ad occupare tutto l'occupabile e quindi sono in costante ricerca di addetti o di dipendenti. però non si fanno conoscere. Dall'altra parte vi è la posizione del malato, del disabile, che deve ugualmente farsi conoscere. Il mercato del lavoro è un mercato molto particolare perché è un mercato nel quale tutti comprano e tutti vendono. E quando c'è una selezione, c'è una seduta all'interno della quale ci si conosce tra candidato e azienda, in realtà l'azienda sta vendendo se stessa per acquistare il candidato migliore e il candidato sta vendendo se stesso per acquistare l'azienda. Quindi è una negoziazione. Bisogna capire che il disabile non può immaginare e non si può attendere nel privato di essere assunto in quanto disabile. Deve essere assunto come risorsa e quindi da una parte, dalla parte del disabile, ci deve essere la capacità di sapersi posizionare sul mercato del lavoro, di saper gestire la propria immagine come professionista e di saperla raccontare. Da parte delle aziende, invece, ci deve essere una capacità, se si parla veramente di corporate social responsibility, cioè di responsabilità sociale da parte dell'azienda e di inclusione della diversità, ci deve essere la capacità di individuare i talenti anche nelle categorie protette, avere un contatto con le categorie protette attraverso le associazioni e poi avere anche un percorso formativo all'interno dell'azienda, del personale che dovrà interfacciarsi con le categorie protette e soprattutto un percorso di inserimento che preveda un tutoraggio iniziale. Ora, all'interno di questo rapporto abbiamo un'altra pedina importante che è quella dell'associazionismo. L'associazionismo deve fare quello che hanno cominciato a fare le università con i neolaureati, cioè deve fare quello che viene definito placement, cioè il posizionamento. Le associazioni dovrebbero cominciare a occuparsi di prendere contatti con il maggior numero di aziende possibile per poter posizionare e consigliare e far conoscere le persone che fanno parte, i disabili che fanno parte della propria associazione che sono dei talenti e che hanno delle capacità lavorative invidiabili e quindi che possono essere inseriti non in quanto disabili, ma in quanto risorse. Poi è chiaro che se l'azienda individua la risorsa, che è una risorsa interessante e produttiva, il fatto che sia disabile e che vada a coprire quella quota di categorie protette non è altro che un plus. Quindi noi adesso stiamo vivendo in una condizione in cui vi è un racconto, una moda che è quella dell'inclusione e della diversity che in realtà con i disabili, con le categorie protette e con i malati rari non ha niente a che vedere. Sono pochissime le aziende che quando parlano di inclusion e di diversity parlano riferendosi alle disabilità e alle categorie protette. Dall'altra parte vi è la necessità di farsi conoscere e saper gestire la propria professionalità a livello di comunicazione del disabile il quale deve imparare a scrivere un curriculum, deve imparare a ricercare le aziende alle quali mandare il curriculum e anche contattare in altri modi attraverso appunto la frequentazione di questi appuntamenti che sono sia online che in presenza, inclusion day, i diversity day, cioè queste fiere all'interno delle quali ci sono gli uffici selezione delle aziende e la possibilità di partecipare in quanto categorie protette e poi devono anche avere una competenza nella gestione della propria immagine come professionista.